ben trovati amici questa è la rassegna stampa di fano tv vi auguro una buona giornata e vi dico subito che oggi voi lo sapete comunque lunedì 26 agosto 2024 un giorno in cui si festeggia un santo che è molto venerato in una città dell'alta italia lo vediamo qui nella grafica e santa alessandro di bergamo santa alessandro visse sotto l'impero romano ma siamo già nel 300 dopo cristo quando poco dopo dopo l'inizio di questo secolo insomma il cristianesimo fu accettata come religione di stato ma intanto all'inizio ci furono ancora le persecuzioni e vediamo che cosa accadde a santa alessandro di bergamo era un legionario della legione tebana cosiddetta perché era stata reclutata in Egitto a Tebe appunto una legione in cui militavano alcuni cristiani impiegata contro la guerra impiegata con la guerra contro i montanari delle alpi svizzere allora era cesare massimiano che cosa fece prima di ogni battaglia i legionari erano invitati a sacrificare agli dei per impetrare la vittoria ma i cristiani ovviamente si rifiutarono e la reazione dei loro comandanti fu molto drastica si passò infatti alla decimazione ebbene era una pratica in uso allora nell'antico impero romano quando un soldato su dieci veniva fatto morire a fil di spada ebbene ci tentò una prima volta ma i cristiani della legione non cedettero e quindi una seconda decimazione e poi ancora una terza finché praticamente la legione tebana fu diciamo così decimata ovvero fu letteralmente decimata scomparsa. Alessandro però non era in servizio in quel momento era distaccato in un'altra località scampò dunque a quell'ecidio ma non scampò al boia perché più tardi morì martire anche lui mentre predicava il Vangelo e si era rifiutato di sacrificare agli idoli davanti al suo comandante e quindi fu sepolto a Bergamo ecco perché a Bergamo Alessandro è particolarmente venerato. Ciò detto passiamo alle previsioni del tempo anche se poco cambia rispetto ai giorni scorsi. Abbiamo un tempo ancora asciutto e caldo su tutte le marche con nubi alte in passaggio e cumuli diurni in appennino torna comunque l'instabilità almeno dovrebbe tornare da domani. Le temperature 21 la minima 30 gradi e ancora molto alta la massima. i venti sulle coste da ovest e nord ovest nell'entroterra da est e sud est il sole è sorto alle 6 e 22 e tramonterà alle 19 e 56. Allora a questo punto passiamo alla lettura dei giornali a partire dalla prima pagina del resto del Carlino in cui vengono riassunte un po' tutte le notizie delle 5 province marchigiane. Vediamo subito quella di Pesaro. Ecco c'è un interrogativo che viene posto all'attenzione dei lettori un interrogativo che nasce da quanto detto dal sindaco di Pesaro Andrea Biancani. Insomma sembra che la biosfera che ora si trova in piazza del popolo a Pesaro costituisca un impiccio. E' stata una fonte di attrazione per tanto tanto tempo ma ora sorge l'interrogativo dove metterla, dove sistemarla? Ebbene allora si fa avanti il museo del Bali che però chiede chiarezza perché ovviamente mantenere un simile impianto tecnologico non è da poco conto insomma costa parecchio. Allora dice il presidente del museo del Bali vogliamo sapere se la cessione è gratuita e a quanto ammontano i costi di cessione. E questo il sindaco dovrà dare una risposta. Sappiamo comunque che tutto l'impianto della biosfera è costato oltre 600 mila euro ma sono stati fondi che sono stati appunto dati in più al comune di Pesaro. Passiamo alle altre notizie. I furbetti della legge 104, quella che pone la disponibilità a coloro che assistono i loro parenti disabili che non riescono, che non hanno autonomia, di non perdere il loro posto di lavoro e di comunque poter avere ancora lo stipendio. Però ci sono alcuni furbetti e le aziende dunque fanno pedinare i loro dipendenti. E poi a Fano l'opposizione boccia il raddoppio della ferrovia. Ebbene qui bisogna fare un chiarimento cioè non boccia il raddoppio della ferrovia non boccia lo spostamento, diciamo meglio, della ferrovia ma boccia quel provvedimento che non sopprime la ferrovia sulla costa e anzi costituisce una ferrovia in più nell'entroterra. Insomma se non si elimina quello della costa si fa un errore conclamato secondo l'opposizione fanese. Vediamo le notizie delle altre province. A Dancona, a Porto Novo festeggia anche senza sold out, anche senza il tutto esaurito. Questa è stata una stagione turistica altalenante. Insomma c'è chi ha detto che è andata bene e c'è invece chi ha detto che è andata così, così. Ecco non male però insomma si poteva andare meglio. A Osimo c'è una crisi politica, Forza Italia esce dalla maggioranza, Antonelli attacca da voi soltanto scorrettezze. E poi Summer School in città, una camminata per il clima, ma il Comune ci ha detto di no. Insomma una istanza che è stata rifiutata dal Comune. Nella provincia di Ascoli è di fermo un rogo lambisce a Sant'Elpidio a mare le abitazioni e una palestra. A Porto San Giorgio un furto in una casa di un imprenditore. E la casa è stata completamente svaliggiata. E poi dobbiamo registrare una disgrazia, una di quelle che non vorremmo mai leggere sui giornali. Un bambino di tre anni sfugge al controllo dei genitori e annega nel canale. È un bambino africano che purtroppo è caduto perché è sfuggito dall'attenzione di chi doveva custodirlo. I familiari ne avevano segnalato la scomparsa. Il colpicino è stato trovato in acqua da due passanti, vani i soccorsi. A Macerata, allarme della CGA, l'associazione di categoria. SOS per gli artigiani. In dieci anni oltre 4.000 in meno. E c'è una moria di aziende che desta preoccupazione all'associazione di categoria. A Castel Raimondo, un ambulante ucciso da un infarto ed è stata annullata la fiera. A Civitanova, a un incidente stradale travolta da uno scooter sulla statale adriatica, una donna è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona. Apriamo la pagina per un approfondimento delle notizie appena lette e vediamo subito la notizia della biosfera che si trova, come ho detto, in Piazza del Popolo a Pesaro. Ecco, la vediamo qui in questa fotografia, mentre riproduce l'aspetto totale della Luna, sia in quella faccia visibile che in quella retrostante che noi non possiamo vedere, ma che le telecamere hanno ripreso in tutti i loro particolari. Il presidente del Museo del Bali, Roberto Lauri, ha alzato la mano dopo che il sindaco Andrea Biancani ha detto che quella biosfera deve essere ormai delocalizzata, deve essere spostata da Piazza del Popolo. Ebbene, il presidente Lauri ha detto che noi ci candidiamo a prenderla, potremmo sistemarla all'esterno del Museo del Bali. È un po' il luogo ideale per ospitare questa meraviglia della tecnica al Museo del Bali. Poi ci sono tantissime curiosità, tantissime cose che dimostrano appunto gli aspetti scientifici del nostro territorio, del nostro pianeta. Ebbene, siamo pronti a valorizzarla, ha detto il presidente. Vorremmo parlarne con il sindaco Andrea Biancani, ma se ci fossero disponibilità e condizioni sarebbe una grande occasione. Ovviamente bisogna vedere anche i costi, perché poi il Museo del Bali non è che ha grandi disponibilità, anche se dobbiamo dire che è un centro di interesse e di attrazione veramente grande, sia per scolaresche che per tanti visitatori, per tutto il centro Italia. Ed ora passiamo ancora alla cronaca. Passiamo alla cronaca perché un incidente ferroviario, voluto purtroppo si è verificato a Riccione e è morto un pesarese, scende nei binari all'arrivo del Frecciarossa, suicida un 37enne pesarese. È accaduto ieri alle 14 alla stazione di Riccione di fronte a tantissimi viaggiatori. Non si conoscono i motivi di questo gesto. Probabilmente l'uomo era seguito dal Dipartimento Psichiatrico di Pesaro e aveva già in passato manifestato intenzioni suicide. È stato fatto tutto in maniera molto molto plateale. Questo 37enne si è ucciso nella stazione di Riccione mentre passava alle 14 il treno. il Frecciarossa diretto a Taranto che transitava a tutta velocità non essendo prevista la fermata. Insomma, lo ha fatto con determinazione, proprio con la voglia di farla finita. Purtroppo uno spettacolo veramente terribile, drammatico, che si è verificato in stazione. Ed ora vediamo questo articolo che riguarda un po' Fano perché la ditta Control, rappresentata da Giuliani, Alessandro Giuliani che ne è titolare, fa un po' un consuntivo, rivela quella che è l'attività di indagine di questa ditta privata. Ebbene, sembra che le indagini più numerose vengono eseguite su input delle ditte che vogliono seguire i loro dipendenti che fanno riferimento alla legge 104, quella legge che permette loro di assistere familiari bisognosi e che hanno bisogno di assistenza, appunto. Ma sembra che alcune di queste persone affidano i loro familiari alle badanti e poi loro si prendono un giorno di vacanza. Ed ecco perché vengono un po' seguiti, spiati, spiati è un termine un pochino eccessivo, controllati, diciamo meglio, da questa agenzia di service, la Control, che con dei pedinamenti riescono appunto a dimostrare se poi il dipendente è un dipendente fedele oppure si comporta in maniera scorretta. In merito a quanto si poteva credere per quanto riguarda queste attività così di indagini private, sembra che soltanto il 20% della loro attività venga rivolta ai coniugi infedeli, che forse una volta era un po' l'attività maggiore che implicava appunto coloro che fanno le indagini private. 80% vuol dire insomma che molte persone poi sono disposte, anche se sanno che il coniuge lo ha tradito, a perdonare quanto avvenuto per non distruggere una famiglia. Comunque quella del 104 sembra che sia una violazione della norma piuttosto diffusa. Torna a Pesaro la fiera di San Nicola, tre giorni di bancarelle dal 10 al 12 settembre. Il logo scelto per questa edizione è la palla cipolla. La cipolla la vediamo qui in questa immagine. La cipolla è un po' l'emblema della fiera di San Nicola, come lo è del resto anche emblema della fiera di San Bartolomeo di Fano. Aglio e cipolla sono un po' i prodotti storici che hanno dato origine alla fiera stessa. Fiera a Fano che è in vigore, poi vedremo un po' i commenti che si riferiscono a questa iniziativa. Mentre tutte le novità della fiera di San Nicola vengono pubblicate con questo articolo. È stato presentato un nuovo logo, appunto il manifesto della cipolla. In totale gli ambulanti saranno 460 che si spalmeranno lungo Viale Trieste, Viale Trento, Piazzale D'Annunzio, Viale Verdi, Viale della Repubblica, Viale Marconi e Viale Paterni. I box per la degustazione e vendita di specialità culinarie provenienti dalle varie regioni d'Italia. C'è una bellissima occasione per gustare specialità che provengono da altre regioni. Sarà in Piazzale della Libertà. In totale saranno 15 gli espositori. Prevista anche una sezione dedicata alle opere dell'ingegno, ovvero gli artisti, creazioni delle più bizzarre e più innovative opere d'arte in Via Dante Alighieri. Le eccellenze alimentari con prodotti DOC saranno su Via Raffaello Sanzio. Una vetrina per le aziende locali e non, che promuovono i loro prodotti, sarà in Viale della Repubblica. Poi, come avviene da ormai alcuni anni, a questa parte è stato istituzionalizzato il mercatino dei bambini che vendono giochi, carte e tutti quegli oggetti che sono finiti in cantina, che magari possono venire riciclati. Ebbene, queste sono un po' le notizie che riguardano Pesaro e abbiamo qui un articolo che riguarda invece una polemica che è sorta dopo Ferragosto, in seguito alle dichiarazioni che ha esposto l'onorevole Mirko Carloni, il quale ha annunciato che il primo tratto della nuova ferrovia adriatica, quella che dovrà ospitare l'alta velocità, che parte da Bologna e arriva fino a Castello Bolognese, ha avuto inizio, almeno un inizio burocratico. Ebbene, questa notizia ha messo in allarme i partiti di opposizione del nostro territorio, di Fano, che sono in comune, il Partito Democratico, la Fano che vogliamo e Fano cresce. Ebbene, secondo questi partiti, raddoppiare semplicemente la ferrovia, lasciare inalterata la ferrovia che ora costeggia il litorale fanese e poi costruire un'altra ferrovia nell'entroterra è un grande errore, perché così non si libera un tratto importante della costa, un tratto che in questo momento limita lo sviluppo di quello che può essere un territorio vicino al mare, importante sia per entrambe le città, Pesaro, Fano, ma anche Senigallia e oltre. Ebbene, è un errore. Fano avrebbe solo svantaggi, ha dichiarato l'ex vice sindaco Cristian Fanesi. Fano avrebbe solo svantaggi per gli spropri e l'impatto ambientale. Nessun vantaggio legato alla presenza di una nuova stazione, perché non ci saranno fermate nel nostro territorio, hanno dichiarato. Ebbene, ad una notizia così, insomma, di una prospettiva deludente, vediamo invece una notizia di una prospettiva allettante. Infatti, l'annuncio di Mirko Carloni, che stavolta è un annuncio che viene così apprezzato, è quello dell'inizio dei lavori per il traforo della Guinza. A settembre, lavori al via. È un'opera fondamentale, ha detto Carloni, andrà ad incidere sulla crescita del territorio, anche sotto il profilo turistico. Però, insomma, ci vorrà ancora del tempo perché la superstrada Fano-Grosseto venga veramente completata e costituisca una via diretta di collegamento tra i due mari, l'Adriatico e il Tirreno. Abbiamo lasciato la nostra provincia, vediamo qua poi gli approfondimenti relativi al riassunto che abbiamo fatto della prima pagina del resto del Carlino. Vediamo qui qualche titolo. Il lavoro tra crisi e rilancio, idraulici, elettricisti e fabbri, persi 4.000 artigiani. Ebbè, è una fotografia, insomma, non molto promettente della nostra regione. E poi l'infarto fatale che ha reso vittima Gianfranco Ciarrocchi, 69 anni, ambulante di origine abruzzese. Era presente nella fiera di Castel Raimondo. Purtroppo è deceduto e la fiera ovviamente è stata annullata. Questo per quanto riguarda il resto del Carlino. Diamo un'occhiata ora anche al Corriere Adriatico, dove l'apertura è dedicata appunto alla fiera di San Bartolomeo. Ebbene, c'è stata un po' una consultazione degli ambulanti che frequentano questa fiera e il risponso non è stato molto esaltante. In una classifica che vede le tre principali città organizzare questa manifestazione tra la fine di agosto e il mese di settembre, ovvero Pesaro, Senigallia, Fano. Vediamo, Pesaro, abbiamo visto che dopo il 10 di settembre c'è la fiera di San Nicola. Quella di Senigallia comincerà martedì prossimo, ma è già iniziata per quanto riguarda il food, il cibo, è cominciata l'altro giorno. Ebbene, per quanto riguarda Fano, insomma, le valutazioni non sono buone. Fiera in declino, venditori insoddisfatti, stiamo meglio a Pesaro e Senigallia. Insomma, sul podio viene posto prima Pesaro, poi abbiamo Senigallia e poi abbiamo Fano, insomma, in terza posizione. Considerando le tre maggiori manifestazioni fieristiche che si svolgono nel nostro territorio, Pesaro, Senigallia e Fano, tutte e tre a poca distanza, l'una dall'altra, ebbene Fano, dicevo, è in terza posizione. Siamo ultimi. Ma non perché ci siano delle falle nella organizzazione e delle scelte non condivise, comunque però esistono, fornendo l'oggetto di recriminazioni che vengono espresse anche in altre città, ma perché a Pesaro la Fiera di San Nicola è sinonimo di identità cittadina. Quindi i pesaresi sono molto legati e ci tengono alla bellezza, all'esito di questa iniziativa. Quella di Senigallia ormai ha raggiunto una notorietà nazionale, come un po' tutte le manifestazioni che si svolgono a Senigallia a seguito del Gembori. Anche la fiera ha una sua importanza, è una fiera campionaria, mentre Fano, insomma, non è che i fanesi poi la valorizzino molto questa fiera, insomma. Ci sono un po' di polemiche, un po' di disagi, insomma, la prendono un po' sotto gamba, dobbiamo dire che questo è un peccato, perché la fiera di San Bartolomeo a Fano è una fiera storica, una fiera importante, nasce nel Medioevo, dà un impulso importante anche all'economia della città e consente anche ai fanesi e ai turisti che in questo momento sono in vacanza nel litorale di fare degli acquisti a buon prezzo, dobbiamo dire, insomma. Poi c'è una varietà di prodotti che non finisce più, oggi è l'ultimo giorno della fiera. Ieri sera, insomma, c'è stata una buona affluenza, ma solo in tarda serata. Perché? Perché al mattino la gente va al mare, pomeriggio nel prime ore è troppo caldo per passeggiare sulle lungomare e quindi tutti si riversano in serata. Fano liberata alla Rocca, 80 anni dopo. Ebbene, domani, 27 agosto, è il giorno della liberazione di Fano. Si ricorda questa giornata memorabile che si è verificata 80 anni fa. E l'AMPI organizza tutta una serie, insieme anche all'amministrazione comunale, di commemorazioni, di appuntamenti per ricordare questo evento. Poi abbiamo un articolo nella seconda pagina del Corriere che riguarda il debutto, il nuovo debutto, dobbiamo dire, di un'opera scritta nel 1834, pensate, rappresentata fino al 1844 e poi semidimenticata. Insomma, non l'ha rappresentata più nessuno. E quindi si può considerare veramente una prima in tempi moderni la casa disabitata del compositore maceratese Lauro Rossi che è stata inserita nel programma di eventi del Belcanto ritrovato. Un'iniziativa organizzata dall'Orchestra Sinfonica Rossini in collaborazione con il Comune di Fano che ha messo a disposizione in questo senso il Teatro della Fortuna in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna che ha messo a disposizione il teatro. Scelta coraggiosa e vincente. Il teatro è apparso gremito per l'opera La casa disabitata di Lauro Rossi riproposta dopo 140 anni piace a fanesi e turisti. Ebbene, è stata una bella musica, una vicenda leggerina, è un'opera comica, insomma, una vicenda amorosa contrastata da scene di gelosia, da una, così, attività truffaldina che caratterizza una casa che viene disabitata e viene usata come covo per una banda di falsari, però, insomma, è stata veramente una riscoperta di questa musica risorgimentale. Vediamo, siamo ormai in conclusione, vediamo la pagina della Val Cesano. Amici, nel segno della Santa, con utili scambi economici, una delegazione di Serra rientra a Rutschheim, Amrein, estende una località gemellata con Serra Santabondio della Germania. Vediamo anche la pagina di Senigallia, una stagione ai raggi X, si cominciano a fare i consuntivi, siamo alla fine di agosto. Per quanto riguarda la stagione turistica, anche a Senigallia sono in calo le presenze per recuperare, si dovrebbe andare avanti fino al mese di ottobre. E con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa, dandovi appuntamento, come sempre, alle 7 di domani. Grazie per l'ascolto e a risentirci.